Tutti soddisfatti al termine del vertice tenuto presso la sede di Confindustria Avellino sui contratti da applicare ai lavoratori ex Irisbus che saranno riassunti dall'industria italiana autobus. Stefano Del Rosso, amministratore delegato della King Long Italia presente al Summit, ha concesso ai lavoratori il riconoscimento degli scatti di anzianità precedentemente acquisiti. Ciò significa circa 125 euro in più in busta paga. Ora dai sindacati arriva la richiesta al governo di mantenere gli impegni sulla stesura di un piano di trasporti pubblico che consenta alla fabbrica di lavorare a pieno regime. Il 90% di quello che noi avevamo chiesto siamo riusciti a portare a casa, cioè la differenza salariale tra l'oggi e il domani si aggira all'incirca sugli 80 euro in meno, ma per il semplice fatto che ci sono dei superminimi individuali che l'azienda non se ne è fatta assolutamente carico, perché era la Fiat che aveva questo sistema di utilizzare superminimi individuali per tenere anche sotto pressione alcune titolarità all'interno dello stabilimento. Quello che noi abbiamo portato a casa sono tutti gli scatti di anzianità, si parla di 125 euro in più al mese, il livello di inquadramento professionale, quindi la manzione che il lavoratore svalgeva aveva un suo inquadramento, rimarrà tale e quale. Viene riconosciuta l'anzianità lavorativa, anche questo è importante sia per l'aspetto IMS e quindi un domani per la pensione, ma anche e soprattutto per gli eventuali altri scatti, voglio farvi che noi abbiamo ancora alcuni lavoratori che hanno due o tre scatti, quindi verrà riconosciuta parzialmente l'anzianità che ha oggi e se dopo sei mesi scatta il secondo anno di maturazione dello scatto di anzianità, l'azienda glielo riconoscerà. Quindi diciamo che abbiamo rimandato al mittente ciò che aveva chiesto l'azienda, perché è giusto per capire che l'azienda aveva chiesto il zeramento degli scatti di anzianità e riconosceva solo l'inquadramento professionale, quindi oggi tecnicamente siamo riusciti a portare a casa un grande risultato. Noi questa cosa l'abbiamo, come si dice, nel novembre 2011 l'abbiamo sognata quella di fare un accordo con la Breda Menarini, quanti nessuno era convinto di questo, quindi io ritengo che è giusto riconoscere a chi viene a fare l'investimento, perché ha avuto coraggio, però lo stesso coraggio bisogna riconoscere a questi lavoratori che non hanno mollato un attimo per riconquistarsi un posto di lavoro, quindi penso che per l'Irpinia tutta sia un fatto positivo quello che oggi invece di parlare di usura di fabbriche parliamo di una riapertura di una fabbrica che ci possa essere speranza anche dopo, perché ci sono tutte le condizioni perché ci siano cose grandiosi in quella Valle dell'Uffita. Grazie a tutti.